Sarà un momento di confronto e di dialogo con la città, ascoltando le esperienze dei professionisti del settore. Sabato 22 ottobre al Teatro della Fortuna di Fano, tornano per il terzo anno gli stati generali del turismo. L'evento, aperto al pubblico, è fortemente voluto dall'assessore Etio e Lucarelli, che punta sul lavoro in sinergia per accogliere le aspettative di un mercato sempre più esigente. La mattinata prenderà il via alle 9.15 con i saluti istituzionali. La parola d'ordine sarà crescere insieme, lavorare insieme per la crescita della nostra città, quindi un momento di plenare a sabato 22, dove cercheremo di capire il percorso fatto fino ad oggi, ma anche quello che dobbiamo fare nel 2023, che cosa ci aspetta nel 2023, soprattutto in virtù del caro Bollette, di quello che sta succedendo a livello nazionale e internazionale. Capiremo il percorso e lo capiremo anche insieme a delle persone che hanno fatto progetti di successo in Italia, come ad esempio l'assessore al turismo del Comune di Parma, Cristiano Casa, che ha fondato questo progetto Parma Città della Gastronomia, oppure Alex Bianchi, che ha fondato il progetto del consorzio Family di Riccione, per attirare turismo family. Ecco, stiamo lavorando su dei progetti che valorizzano l'identità della nostra città, quindi sul turismo familiare, sul turismo gastronomico, sul turismo marinare, dobbiamo lavorare in futuro sul turismo culturale, sulla possibilità di far vivere la nostra città all'aria aperta. Ecco, per fare tutto questo dobbiamo lavorare insieme. L'amministrazione comunale, ha proseguito Lucarelli, deve investire nella promozione attraverso strategie vincenti. Fondamentali saranno anche gli investimenti degli imprenditori per poter qualificare le offerte. si pensi ai bike hotel o ai family hotel. Un momento molto importante dove ascolteremo casi di successo, ma quei casi di successo dovremo farli ricadere anche nella crescita della nostra città. Non finiranno qui gli stati generali del turismo, ma da lunedì 24 fino a lunedì 7 novembre avremo una serie di laboratori, l'abbiamo chiamato Visit Fano Lab, per lavorare appunto su varie caratteristiche della nostra città. Lunedì sarà la volta di Fano Gastronomica, mentre martedì 25 ottobre alle ore 17 al Cinema Masetti, il gruppo Romani presenterà il progetto e il piano di rilancio delle terme di Carignano. Il progetto che ci auspichiamo possa diventare realtà, è per noi molto importante che lo diventi, perché qualifica molto la proposta della nostra città, come la ragioneremo giovedì 27 con gli eventi e così via. Parleremo di turismo culturale, parleremo di outdoor, parleremo di tanti altri progetti che dobbiamo attivare insieme per far crescere la nostra città. Ecco il concetto, che è la chiave di volta di questi stati generali, e credo che sia anche la chiave di crescita della nostra città. Ognuno deve fare il suo lavoro, lo dobbiamo fare in primis noi come amministrazione, ma è importante che ognuno faccia il suo per far crescere la città.